Per il cinema, dico alla mamma che vai fuori con quel tipo con i baffi che si viene sempre a prendere in giulia Per il lunata, dico alla mamma che sovuta la stasera Mentre il tipo con i baffi ti baciava dietro l'angolo di casa Chiamalo ricazzo, ma non sarò zitto, ci provo un gusto alto a fatti di testo per fatti di sera Però mi darei Grazie